Al polo scolastico di Via Reggiana verranno installate due videocamere, all'inizio e alla fine della passerella di Via Rimini, per monitorare la sicurezza intorno alle scuole, dopo che i presidi avranno denunciato atti di bullismo e scippi. La richiesta era partita dal presidente della provincia, Francesco Pugelli, e oggi è stata approvata durante il tavolo per la sicurezza convocato in prefettura. Alla situazione, per le informazioni che abbiamo, risulta tranquilla. Ci sono i presidi, i presidi da parte sia della Polizia Municipale, dell'Associazione del Bontariato, ovviamente delle Forze dell'Ordine, così come stabilito dai tavoli tecnici. Stiamo dando corpo a quella ipotesi di videosorveglianza che ha ricevuto un assenso e appena rimossi dei problemi di tipo tecnico, economico, perché ci vogliono anche le risorse, verranno installate. Tra le criticità espresse dai presidi, anche quelle alle fermate dell'autobus, dove si sono verificati episodi di bullismo per la precedenza salire. La sicurezza del Polo di Reggiana, ha spiegato il presidente della provincia, Francesco Pugelli, è un problema che abbiamo affrontato da subito, informando anche il prefetto. Dopo i controlli delle Forze dell'Ordine, l'installazione delle prime due telecamere rende la zona ancora più sicura.